bonjour in realtà ci mette un'eternità prima di parlare di libri però una cosa io direi fondamentale un appello agli scienziati presenti su questo canale sapete, non so, giovani specializzanti eccetera è probabile è possibile è scientificamente provato che una persona arrivata alla veneranda età di 31 anni possa avere una seconda pubertà, questa è la domanda un secondo sviluppo questo è quello che io vi chiedo perché la presenza di brufoli sul mio bel faccino come direbbe Ursula secondo me suggerisce la possibilità che questo possa accadere per cui, qualora vi siano dietro l'autocompenso degli studi che voi magari, non so avete intenzione di intraprendere in questo senso io sono vostro ecco detto ciò io partirei subito perché i libri sono tre è vero e sono libri tra di loro molto diversi mi piace molto potervi portare una sorta di varietà così che in realtà il mio obiettivo sarebbe quello di condurlo a un varietà ma questo è un altro discorso portarvi una varietà di insomma di titoli anche di case editrici di situazioni di generi così che ognuno possa volendo trovare qualcosa che gli si possa appiccicare addosso ecco lo possa soddisfare in qualche modo non potendolo soddisfare fisicamente io io direi di partire con la prima di queste opere è raro che io parli di poesia adesso qualcuno dirà guardiamo che parte la spatafiata sulla poesia sì una mini ma giusto per rendervi un po' partecipi della cosa mi piace molto l'idea mi faccio un po' più indietro per dimostrare che ho ancora dei capelli ma poi in realtà non è così mi piace molto a volte l'idea mi piaceva quando ero più piccolo mi piacevano le cose molto criptiche no? quelle su cui bisognava passare del tempo su cui bisognava ragionare su cui bisognava arrovellarsi perché i miei voli pindarici mi consentivano poi no? insomma sapete quando il vetro è un po' appannato c'è anche un po' più gusto a guardare dall'altra parte o almeno questa era la mia impressione quando ero più giovane con l'andare del tempo invece il vetro appannato unito alla miopia al mio astigmatismo alla perdita della pazienza mi ha portato a dire ah se qua non si vede bene signori sapete che c'è arrivederci me ne vado a spiare da un'altra parte cioè voglio dire tra noi wire non c'è bisogno di queste cose se capivo il punto è che la poesia per me ha sempre rappresentato quel vetro appannato e allora a un certo punto io ho perso il gusto di andare a cercare di capire cosa ci fosse questo dietro appannato dietro questo vetro appannato ho perso il gusto di arrovellarmi il gusto di capire il gusto della criticità e ho apprezzato le cose che ti vengono violentemente no violentemente no ma insomma apertamente sbattute in faccia e uno deve vedere quello con cui ha a che fare poi è questione di gusti chiaramente quindi magari a qualcuno invece è rimasta permane nel corso della vita la voglia di star lì fare dei calcoli risolvere il cubo a me ste cose annoiano e quindi anche la poesia cosa c'è di più appannato di più criptico di più oscuro a volte di una poesia e allora io non mi sono mai interessato di poesia l'ho letta molto molto poco quasi sempre forzatamente perché si trattava di raccolte poetiche fatte magari a scuola eccetera e invece adesso sono qui a portarvi un libro di poesie per la verità vi leggo proprio la definizione che lo scrittore ha dato di questo libro ecco libro dice l'autore definiva questo libro qualcosa di meno della poesia e qualcosa di più della prosa ora per non diciamo soffermarci su una cosa che non mi trovo d'accordo cioè la gerarchizzazione dei generi a maggior ragione poi se parliamo di poesia e prosa che non sono più generi ma sono due macro aree enormi ambulance for us senza diciamo ma 5 minuti di che cosa e no guendalina però me lo devi di eh non sta a fare figure di 5 minuti di che cosa 5 minuti per dirvi che invece al di là della gerarchizzazione tra prosa poesia e cugini di campagna io ho trovato una raccolta di poesie gustosissima poi voi direte anche adesso che vi dirò il titolo perché già sento qualcuno che diceva ma è strigne che c'ho da fare però ora che vi dirò il titolo voi direte ma questo scopre nel 2021 una roba che è uscita nel 1915 che in Italia poi è stata in Italia è uscita un po' dopo ma è stata letta riletta De André ci ha fatto un album bellissimo su questo su alcune di queste poesie che poesie proprio non sono adesso vi spiego qualcuno con De André ha già indovinato eccolo qua antologia di Spoon River del carissimo Edgar Lee Masters da notare stamattina una pronuncia una scioltezza nella lingua che purtroppo insomma rimane fine a se stessa eccolo qui antologia di Spoon River in questa veste grafica nuovissima cioè voglio dire da fare invidia in questa edizione e in Audi chiaramente visibile dalla dallo stile della copertina talmente chiaro che io comunque ho dovuto leggerlo allora insomma parliamo di un libro molto datato non solo l'opera in sé ma anche l'edizione che ho io i più sapranno io spero che non venga a specchio sinceramente adesso voglio sincerarmi per favore un attimo per carità uno alla volta per carità magari un tempo sì bene non si vede a specchio antologia di Spoon River è una raccolta di poesie inserite però in un contesto che mi ha fatto gola fin da subito poi la cara Gwendalina mi ha diciamo omaggiato della sua coppia che non è un regalo perché sta roba deve tornare indietro ma insomma in sostanza non appena ha finito di leggere ho detto guarda me lo ha prestato immaginate una collina ok una collina di questo piccolo paesello assolutamente immaginario di Spoon River e su questa collina giace voglio dire è adagiato è mollemente adagiato un cimitero e quindi le varie tombe che fanno parte che compongono questo cimitero sono abitate diciamo così da tutti i diciamo i vecchi abitanti tutti gli abitanti della cittadina di Spoon River o meglio tutti quelli che a un certo punto sono passati a miglior vita lo scrittore immagina in questo libro che ogni persona dalla propria tomba dalla propria lapide dal proprio manifesto funebre parli e racconti un po' di sé quindi ogni poesia ha il titolo della persona che sta parlando del defunto che in quel momento sta parlando non lo so per esempio professor newcomer ok e il professore parla parla e racconta tutti raccontano raccontano un po' di sé alcuni molto di sé altri molto degli altri per cui è una sorta di intreccio meraviglioso di mosaico meraviglioso dove sono i morti a restituire la vivida immagine paradossalmente di una cittadina e di ciò che ha attraversato questa cittadina cioè quali persone compongono di chi è fatta la città perché la città rimane sempre un'entità un po' astratta la città la città ma la città è fatta è fatta di storie è fatta di ripicche è fatta di dispetti è fatta di gioie di matrimoni di figli che ci sono che non ci sono più che non ci sono mai stati che magari avremmo voluto o non avremmo voluto poi è fatta di parentele di politica di lavoro di professioni di intrighi di riuscite di sconfitte di guerre la città è fatta dalla vita delle persone e attenzione è fatta suggerisce insomma l'autore è fatta anche dalla morte è fatta da coloro che non ci sono più e che hanno però fatto detto visto provato sentito lavorato e in qualche modo hanno inciso sulla realtà tratteggiandola modificandola subendola oppure cambiandola quindi l'antologia di Spoon River è un libro che in alcuni momenti per la verità soprattutto da un certo momento in poi si inizia ad accusare il colpo cioè si pensa e si dice sono troppi morti c'hanno troppo da di ste persone quindi forse in realtà come ogni libro di poesie non va a letto come l'ho letto io cioè come se fosse un romanzo per cui una di fila all'altra leggendolo di pagina in pagina ma va preso di tanto in tanto e di tanto in tanto si deve far cullare dai ricordi di queste persone è bello perché ogni persona poi ha un modo diverso di presentarsi al lettore per cui alcune parlano come vi dicevo prima molto più dei propri fatti personali delle cose che le hanno che le hanno offese che le hanno in qualche modo riguardate nella loro vita altre persone invece parlano di ciò che ha riguardato altri oppure svelano degli arcani oppure parlano di invidie di gelosie insomma io l'ho trovato un libro complice anche la diciamo lo stile dello scrittore e la traduzione io l'ho trovato un libro anche fresco diciamo relativamente fresco da leggere cioè essendo poesia non vi aspettate né il vetro appannato di cui parlavo prima non c'è non c'è mai limite al peggio nel via vai quindi non vi aspettate né il vetro appannato di cui vi parlavo io prima quindi cose da decifrare da pensare è molto è molto più diretta la cosa ed è per questo che io ho avuto modo di apprezzarla anche molto di più quindi sì per me è sì uno diceva beh sti grandi ma è la vita scusate vado a vedere la mandria di bufali che sta intanto passando nel corridoio di questo benedetto bnb ma nessuno di lecce ha una casetta qua no vabbè no ve lo dicevo perché sapete tante volte uno ha una casa non sa che farsene dicevo mogliato a luca per esempio ad un prezzo ragionevole allora andando avanti passiamo subito al secondo di questi volumi su cui tra l'altro non spenderò molte parole è stata una delusione sì perché io avevo letto di questa autrice molto molto tempo fa e non ricordo neanche sinceramente ve lo dico se noi già avessimo questo nostro appuntamento mensile un libro che si chiamava all'epoca si chiama anche adesso insomma le ciccione lo fanno meglio è un libro che ha avuto una grande risonanza ha venduto anche un buon numero di copie e io poi con questa scrittrice sono in qualche modo entrato in contatto perché per un periodo di tempo ci siamo anche parlati su facebook avevamo ogni tanto dei piccolissimi scambi poi insomma incostante io incostante lei è andata comunque a finire in bacca però è una persona che è interessante proprio a livello diciamo di vita per quanto io non sposi in toto alcune sue cause alcune sue esternazioni lei è una persona molto attiva sui social soprattutto su facebook la seguo io dove è realmente molto attiva scrive scrive molto interagisce molto non condivido tutto ciò che dice non intervengo mai perché insomma voglio dire ho altro da fare però è una persona che risulta essere interessante anche dal punto di vista proprio umano e quindi nel corso del tempo lei ha fatto insomma ci sono state delle altre uscite mi pare un paio di libri e poi l'anno scorso è uscito questo volume di cui vi parlo adesso che secondo me ha una copertina bellissima si chiama le radici dei fiori ed è di Caterina Cavina edito dalla Pendragon questo è il volume questo è il libro perché poco convincente la storia di per sé è una storia interessante la Cavina ha sempre avuto da che io mi ricordo insomma nell'evoluzione dei suoi romanzi dei suoi scritti ha sempre avuto una meravigliosa capacità di tratteggiare gli ultimi lei è proprio una ritrattista dei disagiati quindi propone dei personaggi con le loro fragilità con le loro debolezze con le loro manie con le loro malattie molto spesso mentali è una tematica che per lei è molto importante proprio a livello personale questo si evince si sente dai suoi romanzi insieme anche alla tematica dell'alcol per cui è una persona che ha sempre avuto secondo me una capacità molto forte di tratteggiare in particolar modo ma non è un tratteggiare proprio sapete psicologico non saprei dirvi lei è davvero una ritrattista cioè come assistere poi alla alla composizione alla alla creazione di un ritratto vero e proprio dove chi è ritratto è la persona che appartiene al gruppo di coloro che solitamente invece la società mette sotto il tappeto per cui merito a questa capacità che io trovo straordinaria l'ho trovata nel primo volume l'ho trovata anche negli altri perché io li ho letti tutti e l'ho trovata anche in questa forse in questo forse in questo ha maggior ragione perché perché è la protagonista di questo romanzo che è una una ragazza con delle proprie difficoltà e con un tratto caratteristico che è quello dell'albinismo che a un certo punto arriva per sue varie vicissitudini peripezie eccetera adesso non vi sto a svelare assolutamente niente in questa casa di di cura ma attenzione non casa di cura come la intendiamo noi per anziani è proprio una sorta di centro riabilitativo psichiatrico dove comincia una sorta lo è dove comincia ad interagire con le varie figure con i vari personaggi che sono all'interno di questo posto e che a loro volta portano le loro storie il loro vissuto le loro difficoltà le motivazioni per le quali loro loro poi sono lì per cui è una sorta di caleidoscopio in cui ci vengono mostrati come una sorta di passate nel termine laico freak show una serie di orrori di abomini che però non hanno l'effetto respingente che di solito il bel pensante ben pensante e bel pensante di turno si può immaginare ma sono persone con le quali si entra in contatto che hanno qualcosa da dire alla parte di noi che non è proprio sanissima ma non è proprio equilibrata non è proprio nella migliore delle condizioni quindi io ho trovato un come dire un passo importante perché ogni libro che parli di disagio mentale è un libro importante poi che ne parli bene o male questo è un altro discorso cioè nel senso che si faccia o meno apprezzare non che parli bene o male del disturbo ma che si faccia o meno apprezzare è un altro discorso ma il tentativo di parlare di quest'area sempre una sorta di area 51 della società sempre avvolta dal mistero sempre di cui non si devono svelare le cose sono questi posti messi anche fuori dalle città perché l'occhio non vede il cuore quindi di conseguenza non possa dolere insomma non c'è una delicatezza nel trattare tematiche inerenti la salute mentale noi ne abbiamo parlato spesso in vari altri video quindi non sto qui ad ammorbarvi per cui chi fa queste operazioni chi si mette lì e parla di determinate cose è sicuramente da appoggiare in questo caso io l'ho trovato un libro un po' sterilino nel senso che fa il suo lavoro come vi dicevo da ritrattista la cavina ma poi in realtà affonda poco secondo me il coltello ma questo è un mio problema nel momento in cui io ritrovo in un romanzo delle tematiche sociali io vorrei che ci fossero anche delle componenti saggistiche vorrei anche che lo scrittore si lanciasse in delle digressioni in delle delle digressioni ma anche in delle in degli affondi non so come dire in dei voli che qui non ci sono c'è una narrazione dei fatti c'è gente dietro la porta continuamente cioè non è non è una non è nemmeno più una novità ma mai nessuno che bussasse però dice senti ti ho portato sta brioche scusate quindi questo che vedete non è fumo ma vapore le radici dei fiori si poteva forse pensare di si poteva pretendere un po' di più io credo detto ciò non parliamo di un libro negativo non parliamo di un volume come dire parliamo di un libro molto interessante tratteggiato però forse in maniera con dei colori pastello ecco io forse avrei voluto qualcosa di fluo avrei voluto qualcosa di più di più forte però però è un libro che conserva comunque il suo perché e anzi anzi perché insomma la tematica del disagio mentale non smetterà mai secondo me di essere ostracizzata di essere nascosta di essere distrattata e maltrattata ma proprio per questo chi legge anche chi non legge voglio dire chi si interessa all'animo umano è sempre opportuno perché vivere con qualcuno dei nostri cari che ha delle difficoltà psichiatriche o viverle in prima persona io vi posso assicurare che come dire non c'è non c'è nulla da nascondere ma c'è molto da condividere invece da comprendere c'è da far passare il messaggio che non si è soli nell'affrontare determinate battaglie invece purtroppo questo molto spesso passa attraverso questi atteggiamenti di tabù che noi mettiamo come un velo su determinate cose l'ultimo volume di cui vi parlo è edito invece da Garzanti si chiama Il profumo delle foglie di limone ed è della Clara Sanchez questa è la copertina anche questo è un libro che ha avuto una grande risonanza per cui è possibile che lo abbiate letto è stato un libro interessante per quanto lungo per quanto io in questo periodo della mia vita complice anche gli studi una sessione in cui ho provato e ci sono riuscito a dare tre esami lavorando contemporaneamente per cui una situazione di quelle che poi alla fine o ti martelli i coglioni su una lastra di marmo oppure voglio dire non sei neanche no dici ma allora cosa mi rimane da fare quindi non è stato facilissimo leggerlo non per la scrittura perché invece è una scrittura molto fluida molto interessante e poi c'è una trama meravigliosa meravigliosa perché perché la tematica del nazismo viene trattata in maniera molto interessante non si tratta di un libro ambientato negli anni della seconda guerra mondiale quindi di conseguenza negli anni di sviluppo di fascismo nazismo e di questi movimenti totalitari ma è un libro ambientato diciamo più o meno pressoché giorni nostri adesso fatevi un po' i calcoli con le età ma i giorni nostri ed è narrato da due voci che corrono parallelamente la prima voce è quella di Julien Julien è un anziano signore sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen che ha fatto poi della sua vita una crociata e una battaglia contro i nazisti superstiti e che si ritrova ad una veneranda età a venire a scoprire attraverso una lettera di un suo vecchio amico che in una certa parte della Spagna ci sono dei nazisti anziani che conducono le loro esistenze le loro vite quindi lui si riaccende questo fuoco lui arriva in questo posto e parallelamente alla storia di Julien c'è la storia di Sandra di cui non ricordavo il nome c'è la storia di Sandra che invece è una ragazza in fuga dalla sua vita in fuga da una vita che non la soddisfa da situazioni che non le piacciono da una sorella che sembra non apprezzarla una famiglia poi è incinta si è resa conto di non amare il padre del bambino per cui vive anche una situazione sentimentale difficile approda proprio in questa parte della Spagna ed entra in contatto con una coppia di anziani nazisti chiaramente del tutto ignara del loro passato perché loro si presentano ai suoi occhi come una coppia di anziani nonnetti che la aiutano perché lei in spiaggia ha un momento di mancamento eccetera quindi la aiutano e nasce tra di loro un'amicizia a un certo punto la vita di Sandra si incrocerà quindi no? si incontrerà con la vita di Julian Sandra verrà conoscenza di quello che Julian è e di quello che Julian sa su queste persone e su tutta una serie di altre persone che vi ruotano intorno e il libro diciamo si basa un po' su questo incrocio su questi sviluppi è un libro molto bello da leggere io forse questo tra tutti e tre è quello che mi sentirei di consigliare in maniera un po' più calda se avete bisogno di una lettura che vi faccia pensare ma che non sia una lettura immersa in quegli anni che magari può risultare un po' più pesante un po' più respingente soprattutto adesso che comincia a fare il primo caldo eccetera eccetera non c'ho voglia di vedere queste robe invece questo è meraviglioso perché ci pone delle domande che secondo me sono delle domande sacrosante cioè ci si può innamorare di un nazista ci si può innamorare di qualcuno che ha fatto tanto male si può accettare l'idea che qualcuno che ha fatto tanto male adesso viva una vecchiaia serena cioè quel vecchio che tu vedi lì vecchio insomma se siamo capiti quell'anziano signore che tu vedi lì è ancora quello che si divertiva a portare avanti delle istanze repellenti oppure è diverso hanno diritto o non hanno diritto insomma è tutto giocato sul filo di questi interrogativi che secondo me sono interrogativi importanti e chiaramente essendo un romanzo non fornisce delle risposte le risposte te le dai da solo però fa vedere le diverse facce di una medaglia e secondo me la scrittura della Sanchez ci riesce perfettamente e ragazzi io vi lascio vi lascio perché dei tre libri ve ne ho parlato non ho molto altro da aggiungere perché già il video è arrivato ad avere una lunghezza straordinaria però però vi dico che noi a breve ci rivedremo perché io ho da assaggiare qualcosa con voi il buon Antonio mi ha fatto un regalo e devo condividerlo con voi per cui a breve ciao a tutti e buon marzo per carità teniamo duro teniamoci forte teniamoci stretti ciao ciao